Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, un grave incidente stradale alla periferia di Arezzo è accaduto oggi. Si è trattato dello scontro tra un'auto e una moto in via romana sul posto, i sanitari dell'emergenza urgenza e le forze dell'ordine. La peggio è toccata al 48enne in sella alla moto che è stato trasportato in codice 3 all'ospedale Fiorentino di Careggi. Ferita anche la conducente dell'auto, una 72enne, trasportata all'ospedale San Donato di Arezzo. Un altro incidente si è verificato, stavolta si è trattato dello scontro tra due furgoni lungo la Perugia Bettolle all'altezza dello svincolo di San Lorenzo. Feriti, un uomo di 64 anni e un uomo di 36, trasportati entrambi in codice 2, uno a Siena e l'altro all'ospedale della Fratta. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, l'ANAS e le forze dell'ordine. Importanti le ripercussioni sul traffico del raccordo. Torniamo a parlare del caso di Elena Rapini. Il caso si riapre perché la Corte d'Appello ha disposto una nuova perizia. La Corte d'Appello di Firenze ha disposto una nuova perizia sull'automobilista che 5 anni fa perse il controllo della sua auto in SUV e andò a schiantarsi sulla macchina di Elena Rapini che rimase uccisa assieme al cane che aveva con sé. I giudici fiorentini questa mattina hanno infatti rinnovato l'istruttoria dibattimentale. Tutto è rinviato al prossimo 6 dicembre per il conferimento dell'incarico al perito e si riapre così il caso. La tragedia ristradelle il 6 novembre 2019. L'uomo alla guida del SUV nel gennaio 2022 venne assolto perché il fatto non costituisce reato, ossia quanto commesso non può essere considerato reato perché manca l'elemento soggettivo, colpa d'olo o preterintenzionale. A renderlo imputabile ci sarebbe una sindrome, soffriva di una patologia conosciuta come sindrome delle apnee ostruttive del sonno che avrebbero determinato l'improvvisa perdita di conoscenza. La famiglia della giovane però non si è mai arresa. Tramite l'allora procuratore Roberto Rossi aveva depositato una memoria e una consulenza medico-legale. Secondo i familiari della giovane, infatti, tra le varie argomentazioni contenute nel documento depositato in appello sulle condizioni del conducente avrebbe influito l'assunzione di un medicinale. Adesso a far piena luce sarà la nuova perizia. Si sveglia dopo un mese dal coma e denuncia quanto subito ai carabinieri il 29enne di origini pakistane che era stato ricoverato questa estate al Cisanello di Pisa per aver ingerito dell'acido muriatico ha deciso appunto di denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. L'episodio risale allo scorso ferragosto in un autolavaggio di Monte San Zavino. In un primo momento sembrava si fosse trattato di un incidente sul lavoro. Il giovane aveva appunto ingerito l'acido e aveva riportato gravi ferite. A quasi due mesi di distanza adesso ha voluto dare la sua versione dei fatti. Ai carabinieri sono ovviamente in corso le indagini. Nelle scorse ore anche il territorio retino è stato colpito da una vera e propria bomba d'acqua tra le zone appunto più interessate. Indubbiamente la Valdichiana a fare paura è stato il vingone. È la Valdichio la vittima principale dell'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha colpito la Valdichiana retina estienese. Una pioggia intensa e violenta concentrata su una superficie estremamente ristretta. Sotto stress il reticolo minore è sorvegliato dai tecnici del consortio di Bonifica 2 Alto Valdarno. L'attenzione si è concentrata soprattutto sul territorio di Castiglionfiorentino dove le maggiori criticità si sono riscontrate sul torrente Vingone e sui suoi affluenti. Abbiamo vissuto momenti di grande timore, ammette il direttore generale Francesco Lisi. Siamo impegnati a verificare la tenuta delle opere idrauliche e a individuare le criticità su cui intervenire. Ancora una volta siamo costretti a fare i conti su precipitazioni che presentano caratteristiche molto diverse rispetto al passato, commenta la Presidente Serena Stefani, che continua a seguire l'evolversi della situazione. E allora tra allagamenti e invece un fenomeno davvero molto particolare come quello dell'aurora boreale è stata una notte insonne per molte persone. Chi ha le prese con l'acqua negli scantinati e chi invece con il naso all'insù per ammirare il fenomeno dell'aurora boreale anche da Arezzo. Bizzarrie degli eventi meteo e astronomici delle scorze ore. È stata una nottata di lavoro per Vigili del Fuoco e volontari VAB. La Val di Chiana a Retina è stata quella che ha subito maggiori danni e disagi per le copiose piogge delle scorze ore. In particolare la zona tra Castiglion Fiorentino e Foiano della Chiana. Acqua negli scantinati e torrenti in piena. Molti gli interventi della VAB di Castiglion Fiorentino, come vediamo in queste foto. 20 quelli invece dei Vigili del Fuoco che sono intervenuti anche con idrobore e motopompe. Nella stessa giornata di notte, cieli italiani illuminati dall'aurora boreale. Fenomeno visibile bene anche dall'Aretino. Tante le foto e le segnalazioni sulla chat di Arezzo Meteo. Tutto merito di una tempesta solare che ha colpito il nostro pianeta. Tempesta di classe G4 che ha trasformato i cieli in una luce mista tra rossa e violacea. Un fenomeno rimasto visibile per diverso tempo, durante la notte. E queste piogge di queste ultime ore hanno ancora peggiorato le condizioni del manto stradale ad Arezzo. Già definito da molti un manto stradale groviera. Moltissime le buche che spesso anche voi ci segnalate nelle varie zone della città. È di oggi però l'annuncio da parte dell'assessore alla manutenzione del comune di Arezzo dei lavori che prenderanno il via a breve su via Ristoro, via della Minerva, via Tommaso Perelli, viale Simone Martini e contemporaneamente squadre di intervento proprio sono al lavoro in queste ore per il ripristino appunto delle buche provocate proprio dalle piogge di questi giorni. Poi l'annuncio che molti aspettavano entro la fine di ottobre prenderanno il via ai lavori per la riasfaltatura di via Calamandrei con lavorazioni che prevedono il rinforzo del sottofondo, un intervento corposo per un investimento di quasi 2 milioni di euro. Sarà un autunno e poi anche un inverno denso di tante iniziative ad Arezzo che porteranno in città migliaia di turisti. Per questo è stato convocato questa mattina dal nuovo prefetto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Le mostre dedicate al Vasari, i mercatini internazionali, l'afflusso nella città di Arezzo da un punto di vista turistico aumenta di settimana in settimana e allora per garantire la massima sicurezza il nuovo prefetto Clemente Dinuzzo ha riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Sicuramente la mostra del Vasari rappresenta un banco di prova molto importante per tutto il nostro sistema e oggi abbiamo convocato il Comitato Provinciale dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica proprio per coordinare tutte le attività necessarie affinché questo evento si svolga nella massima tranquillità e consenta a chi viene ad Arezzo di godere di queste giornate di arte e cultura in modo assolutamente sereno. Al tavolo convocato dal prefetto tutte le forze dell'Ordine, il Comune di Arezzo e gli attori protagonisti delle varie iniziative culturali, dalla Fondazione Guido d'Arezzo alla Fraternita dei Laici. In questo fine settimana, oltre alla mostra su Giorgio Vasari, all'inaugurazione era presente anche il nuovo prefetto, ci sono i mercatini internazionali del gusto che da sempre richiamano migliaia di visitatori da tutto l'Interland. Saranno infatti previsti controlli alle principali vie d'accesso in città. C'è questa coincidenza e quindi bisognerà affinare ulteriormente il coordinamento tra le forze di polizia perché questi eventi possano essere goduti da tutti senza particolari preoccupazioni. E' chiaro che gli afflussi previsti sono notevoli e quindi bisognerà prevedere anche delle forme di controllo alle principali porte di accesso in modo da far sì che non ci siano preoccupazioni, ci siano pericoli di sorta. All'orizzonte il grande banco di prova a novembre, l'avvio di tutte le iniziative della città del Natale. Mi sono informato, abbiamo già avuto un altro banco di prova nella fine settimana precedente con il mercato dell'antiquariato che mi risulta aver avuto un ottimo, un grande, aver confermato i grandi successi. E quindi Arezzo deve essere sicuramente pronta ai grandi eventi, a far fronte ad afflussi notevoli di pubblico. E noi ci mettiamo a disposizione con tutte le nostre risorse, quindi le forze di polizia nazionale e con il concorso della polizia locale perché tutto si svolga nel migliore dei modi. Bernardo Mennini è stato riconfermato presidente di ACI Arezzo per il prossimo quadriennio 2024-2028. La recente elezione ha chiamato al voto oltre 10.000 soci dell'ACI di Arezzo che hanno riconfermato Mennini alla presidenza, Teodoro Manfreda come vicepresidente e Francesco Conti. entrano invece nel consiglio direttivo per la prima volta Jacopo Pignatelli e Maria Teresa Magnanensi. Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato Dalle 21 di sabato 12 fino alle 21 di domenica 13 ottobre, appunto questo sciopero potrebbe creare dei disagi, addirittura anche delle cancellazioni dei collegamenti ferroviari. Adesso invece parliamo di un progetto che finalmente arriva a compimento, era un sogno, adesso diventa una realtà. Parliamo dei Poti Pictures Studios. Ciao a tutti ragazzi, allora sono particolarmente orgogliosa e felice di partecipare a questo evento molto molto rivoluzionario, molto importante, dei nuovi studios. Per noi è soprattutto una soddisfazione poter dare una risposta a quanti hanno fatto il percorso Academy e poi per tutta una serie di motivi ti li devi lasciare un po' là. Gli studios sono la risposta anche a questo e continuare a lavorare nella direzione che la Poti ha sempre avuto, cioè sviluppare talenti e promuovere una nuova cultura della disabilità. I Poti Pictures Studios diventano realtà. Mi sento parecchio monsonante perché mi vedi come ora, mi venendo dalla gola. È stato infatti inaugurato in via dei Cappuccini 2 il primo pollo cinematografico interamente dedicato alla formazione e sperimentazione del set destinato a persone con disabilità intellettive e relazionali. Ci sono tre classi al momento, una è la classe base, la classe dove si selezionano nuovi aspiranti attori, faranno un percorso, realizzeranno un cortometraggio professionale con sempre con i partner romani. Questo percorso sarà propedeutico a comprendere anche quelli che hanno dei talenti, delle capacità, quelli che hanno anche interesse e motivazione per continuare a farlo. Da lì si va su una masterclass, quindi una classe avanzata che lavora, ad esempio oggi siamo usati on Prime, lavoriamo con RaiPlay, altre piattaforme, e appunto con i romani, lì proprio per una classe che va a mercato in quel senso. E una classe social che lavora in maniera anche più snella, però alla produzione di contenuti video quotidianamente, sempre in maniera professionale. L'imperativo categorico è lavorare a fianco dei professionisti, acting coach che vengono a fare masterclass, a fare acting coaching, produttori, nel caso della social, lavorare con tiktoker, lavorare con media manager, e professionisti del settore. Quindi la persona con l'isabilità che si trova finalmente a interagire, a crescere insieme alle professionisti. I Potipicture Studios si pongono l'obiettivo di ridefinire la visione della disabilità e l'inclusione sociale nel mondo del cinema, proseguendo nell'impegno della storica casa cinematografica Retina, attiva da quasi 20 anni. Oggi Arezzo è la prima città al mondo che non solo sperimenta l'applicazione delle tecniche cinematografiche svolte da persone con disabilità intellettive, ma che è anche una scuola che godifica il metodo a livello internazionale. E impariamo a confrontarsi l'uno con l'altro, che bisogna lavorarci tutto per arrivare a un trequadro finale. E qui siamo in un luogo importante perché mette insieme la creatività, la professionalità del fare cinema e l'inclusione. non solo perché si coinvolgono soggetti fragili che diventano attori e si mettono in primo piano e possono esprimere le ricchezze e le capacità che hanno, ma anche perché le tematiche di cui si parla sono tematiche che raccontano storie di accoglienza, di rispetto, di inclusività. E quindi penso ci sia un messaggio molto importante che non a caso è in un luogo francescano. Ecco, è un ingrediente che fa dei prodotti buonissimi. Una videostoria su Gioca, un militare neozelandese caduto il 14 luglio del 44 sulle colline castiglionesi. Una iniziativa che rientra nell'ambito dei festeggiamenti per gli 80 anni dalla liberazione di Castiglione Fiorentino, la proiezione prevista per domani, all'auditorium delle Santucce proprio di Castiglione Fiorentino. Una giornata particolare oggi per la comunità hinduista di Arezzo. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Anche ad Arezzo la festa in onore della Dea Guerriera. La comunità hinduista, come ogni anno, ha celebrato Durga. Durga è uno santi e lei si è uno studente aiutare. Questa mia tradizione è tanto antica. Questa festa si celebra ogni anno nel periodo tra settembre ed ottobre e dura alcuni giorni. Come per cinque giorni nostra festa, diciamo dal nove al dodici sabato, finiamo sabato sera. Sicuramente rappresenta il crescente aspetto multiculturale che Arezzo sta ospitando ormai tante culture. Questa celebrazione attraverso vogliamo solo mantenere la nostra identità anche quando siamo in posti stranieri. Questo rappresenta anche che l'Italia sta integrando diverse religioni dentro il suo Stato, perché ci sono state anche gente italiane che sono arrivate qui a assistere alla festa, voi siete arrivate voi, quindi rappresenta il continuo integrazione italiana. Incarnazione dell'energia creativa femminile, Durga è una Dea Guerriera che combatte le forze del male solitamente raffigurata con otto braccia. Questa è la nostra religione, questa è la festa più grande. Noi di feste abbiamo tanti, di Dei abbiamo tanti, ma questa festa che celebra la grandessa femminile, perché la Dea Durga ha sconfitto il demone Moisasura, per noi è una grande vittoria femminile, ma anche per il modo della comunità, perché questa è un'unica festa in cui così tanta gente si unisce in un posto. Da questo anche noi uniamo in un tempo in cui la nostra religione sta vivendo un tempo terribile, sicuramente perché in nostro paese c'è stata una grande persecuzione induista, e noi tante persone sono unite qui anche per dare anche la nostra voce, la nostra protesta contro quello che sta succedendo purtroppo. A meno di 24 ore dall'inizio di uno, nessuno e centomila è stata raggiunta la quota record di quasi 25 mila libri donati e che domani e domenica 13 ottobre invaderanno le piazze di Castiglion Fiorentino. dalle 10 alle 19 i volumi saranno gli assoluti protagonisti proprio nel centro storico della città e verranno venduti al prezzo simbolico di un euro. Il ricavato della manifestazione sarà poi destinato alla valorizzazione della biblioteca comunale di Castiglion Fiorentino e al progetto Mondo Visioni. Arezzo di nuovo capitale della fotografia vintage, domenica 13 ottobre torna Foto Antiquaria. Fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche, un paradiso per chi ama la fotografia d'epoca. Domenica 13 ottobre torna infatti Foto Antiquaria, la storica mostra mercato che giunta alla sua 76esima edizione è un appuntamento per appassionati e collezionisti. Dalle 8 alle 17 le loggie del Vasari in Piazza Grande accoglieranno oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d'Italia che daranno vita ad una singola rifiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere la ricerca di pezzi rari ed introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. In occasione di Foto Antiquaria poi venerdì 11 e sabato 12 ottobre e compartigianato fotografi Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour organizza un workshop dal titolo Don't Look Back in ritratto come collaborazione tra fotografo e soggetto. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali, uno in primavera ed uno a fine estate ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche. In questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 ottobre, tornano anche per la tredicesima edizione le giornate del FAI d'autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati proprio al patrimonio culturale italiano. In Toscana sono 9 le province e 27 i luoghi d'arte che appunto aderiranno. Da oggi 10 dipinti del pittore aretino Franco Fedeli sono visibili nella sala giostra del Saracino, meglio conosciuta come sala rosa del palazzo comunale di Arezzo. Le opere sono oggetto di una donazione fatta all'amministrazione comunale dalla Fondazione Luigi Fucci, ente aretino, che oltre ad adoperarsi nella nostra città in memoria del giovane imprenditore scomparso prematuramente, porta appunto anche il nome stesso del suo imprenditore. Si tratta di 10 dipinti ad olio su tela che raccontano un ampio arco della vita ed espressione pittorica proprio dell'artista dagli anni 70 ai primi del nuovo millennio. Si può fare letteralmente il giro del mondo attraversando i banchi del mercato internazionale del gusto al via oggi e fino a domenica 13 ottobre ad Arezzo il taglio del nastro nello stand della Francia. Trapolla la provenzale birra transalpina è stata la Francia quest'anno a dare il via alla diciottesima edizione del mercato internazionale di Arezzo, evento che riunisce culture e sapori da tutto il mondo. Sei benvenuti in Arezzo! La diciottesima edizione, anche se sono 20 anni che abbiamo iniziato con questa bella avventura, è maggiorenne, diciamo così, e comunque è sempre un evento che attira tanta gente, tanta curiosità, perché poi alla fine il mix è quello che ha funzionato in questo territorio, è queste specialità che vengono da tutte le parti, a questo punto un po' del mondo, non sono più europee, quant'altro, unite invece alle nostre eccellenze. Hanno fatto sì che questo mercato fosse un mercato particolare e quindi è un mercato sentito sicuramente anche da molte persone che vengono da fuori. Noi sono già almeno tre mesi che riceviamo le telefonate per avere la conferma della data e soprattutto la conferma che questo evento venga fatto. Per noi è un evento molto importante, sicuramente con questo grande evento, come sempre le ricadute sono per tutta la città. 195 gli espositori stranieri provenienti da 35 paesi e 90 quelli del territorio per tre chilometri di passeggiata del gusto. Ovviamente avendo la direttiva di attività produttiva mi interessa molto questo particolare, il fatto che un terzo di operatori sia proveniente dal territorio o comunque dalla provincia è un fatto importante, è un fatto che dimostra anche una certa sensibilità da parte degli organizzatori, perché è bello, vero, tutti i paesi del mondo rappresentati, ma è altrettanto bello che sia rappresentata il territorio, le nostre eccellenze, le nostre peculiarità. Insieme al Cibo non mancherà l'intrattenimento tra gli stand nel cuore della città. Sabato 12 ottobre alle 21 è in Piazza Sant'Agostino il concerto gratuito del gruppo Umagroso. Ad ingresso libero e gratuito grazie al contributo dei commercianti di Piazza Sant'Agostino che hanno creduto in questa manifestazione e che collegheranno il mercato a questa bella serata di musica. La radiodiffusione nello sport è il titolo del convegno promosso dal Panatron Club di Arezzo insieme al Museo dei mezzi di comunicazione con il patrocinio del Comune di Arezzo e del Coni Toscano. È in programma per mercoledì 16 ottobre proprio ad Arezzo l'auditorium Aldo Ducci di Via Ricasoli. Prima una visita guidata al Museo dei mezzi di comunicazione e a seguire appunto il convegno. Riparte l'attività della TMA alla piscina di Foiano della Chiana per i ragazzi con difficoltà delle relazioni e dello spettro autistico. Riparte l'attività della TMA la terapia multisistemica in acqua alla piscina di Foiano della Chiana per ragazzi e ragazze con difficoltà della relazione e dello spettro autistico. Siamo molto contenti della risposta che abbiamo potuto dare nell'anno scorso e da quest'anno abbiamo un nuovo operatore per i nostri bambini e ragazzi autistici con disturbi della relazione e siamo presso la piscina tutti i giovedì con i nostri operatori pronti a svolgere le attività di terapia per i nostri ragazzi. Il comune di Foiano della Chiana sostiene questa attività con un apposito bando per i contributi in uscita il prossimo 15 ottobre. L'anno scorso ha avuto un gran successo una grande partecipazione e per questo voglio ringraziare i gestori della piscina e gli educatori e spero che anche quest'anno abbia il medesimo successo in quanto abbiamo riscontrato che questa tipologia di terapia è molto funzionale per i bambini e i ragazzi che hanno disturbi della relazione e questo è un modo da parte dell'amministrazione di stare accanto alle famiglie. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per la cortese attenzione e arrivederci.